Una cattedrale gremita ha dato oggi l'ultimo saluto a Monsignore Grazio Labbiso. Una marea di fedeli ha voluto rendere omaggio a quello il quale è stato l'emblema della Chiesa in città. La messa è stata ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignore Rosario Gisana, allo suo fianco tutto il clero della Diocesi. In città è giunto anche il Presidente della Regione, Rosario Crocetta. C'erano i deputati del territorio, le massime autorità, il Sindaco Domenico Messinese. C'erano anche tanti giovani e tanti anziani. C'era la città di Gela che ha sempre voluto bene al parroco, potente con i forti, sensibile con i deboli. Il fratello Grazio, ha detto il Vescovo Gisana, era testimone della sua storia e delle sue contraddizioni, ma si sentiva amato e perdonato da Dio, come uomo e come prete. Era un uomo aperto, testimone della sua storia, un uomo sincero, discutibile forse su alcune cose, ma su altre no. Siamo contraddittori nei pareri, anche noi stessi. Lui ascoltava la parola di Dio e si esponeva al popolo. Era il riverbero del volere di Dio nel servire la gente. Nelle sue parole, al di là dei contorni, c'è stata sempre la parola di Dio. Questo, ha continuato il Vescovo, dovrebbe insegnarci ad essere prudenti nel modo in cui giudichiamo i preti. Distinguiamo le parole umane e le parole di Dio. Giudicate anche me, nella debolezza delle parole umane. Il fratello Grazio ha scelto il Salmo di Geremia nel suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio a Ripeturo Gisana. Monsignore Grazio Labbiso era nato il primo febbraio del 1941. Fu ordinato sacerdote l'11 agosto del 1963. Nel 1976 ricevette l'incarico di Vicario Foranio della città di Gela. E alla città gelese ha dato tantissimo, fino all'ultimo, anche quando le sue condizioni di salute erano precarie. Ci lascia un grande uomo, un pastore della chiesa, che non ha mai avuto alcuna titubanza quando c'era da prendere delle decisioni, decisioni forti. E quel suo carattere, quel suo carisma hanno indotto tutti a volerlo bene. Monsignore Labbiso ci ha lasciato nell'anno del giubileo straordinario della misericordia suo pensiero fisso durante le omelie, le feste patronali e quelle comandate. Si è spento di domenica, nella Domenica del Signore. Il ricordo che ho di Monsignore, di questa sua passione veramente civile, questa sua capacità di essere referente della città, di interpretarne in qualche modo l'anima, i bisogni. A volte anche si è intento in gambe anche con polemiche. Rispetto alle cose. Io per quello che mi riguarda non posso che esaltare l'uomo, il sacerdote. Il sacerdote che è obbediente e che pretendeva l'obbedienza, ma anche l'uomo impegnato che si batteva per la città. Io devo dire che insieme ci siamo trovati, lui da Monsignore, io da sindaco, prima assessore, in una fase difficile della città, quando il contrasto con la criminalità mafiosa era tremendo, difficile e devo dire che in quella circostanza Monsignore ebbe parole chiare anche di condanna, di episodi di violenza e quindi la necessità anche di una redenzione della città. credo che sia stato un grande uomo e un grande sacerdote, una persona che non giudicava mai nessuno, che gli sapeva includere, tollerante, aperta e rispettosa e con questa stessa logica che noi lo salutiamo, sapendo che è stata una persona che si è fatta volere bene.